Ti ringrazio perché ho passato la settimana scorsa con la gioia di avere accanto una più... Non è una collega, intanto è una persona squisita, straordinaria, sensibile e nel corso dei nove mesi in cui mi auguro staremo insieme, mi auguro soprattutto che tu non rimanga incinta Ma come non rimanga? E lo spirito santo naturalmente Ah ma certo, quindi grazie Sto con te, starò con te e mi concentrerò per non farlo, va bene? Grazie